Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, qui è Fred Rockstone, oggi siamo tornati su FIFA 19, dopo tantissimo tempo, perché ci sono i premi ovviamente di Rivals e FUT Champions. Non ricordo dove cazzo sono arrivate i Rivals, ecco, livello 3 che schifo, vabbè, diamoci ste cagate qua, non scambiabili, così vediamo, può darci qualcosa di buono. E poi adesso, a un secondo, vediamo la squadra della settimana, perché c'è Nengolan, e poi basta, c'è di buono, c'è Oblak, Coman, che questi non utilizzerò nessuno, però vediamo cosa ci potrà uscire. 2 Champions, oro 3, come sempre, 2 pick, e qua, e oh, la, ok, Alvaro, mi piace, 1 84, vai, oh, Piontek, molto buono, scritto, Piontek, buono, 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 mi piace. Andiamo subito di pacchetti, così, e spero di trovarci un One to Watch. Andiamo con un pacchetto mega prima, vediamo se può darci qualcosa. Sto cazzo. Oh, Sto Cazzo. Ah, Benissuards, buono. Cioè, meglio di così. non so quanto vale vabbè 20k conserviamolo dai spiegarsi chissà se ci dà un once to watch perfetto minchia una uomo libero per me pacchetto mega è andato bene vediamo voglio allora ragazzi premetto che non è nulla di scritto ma è uscito lì no oggi incredibile c'è oggi italia portiere a essenzigna è buono no viviano allora devo finirmi cosa spacchini come cazzo si chiama da rush for detto conserviamo tutto un altro pacchetto roberto maxi va bene si può stare dopo una stuola univo volgao nei pacchetti ora doveva un max e poi ci vanno altre pacchetti mega ok un altro va benissimo italia chi cazzo c'è atti pavoletti pavoletti 82 e per lì mi servono ok lingard che mi serve no per caso che non scambiabile cazzo comunque c'è ombra me lo conservo c'è ma che ti ora per un maxi non sono mai stati così buoni in tutta la mia vita vediamo quello mega che ci dà ok bandiera o sto cazzo quindi l'ultimo ma vaffanculo ma vaffanculo 85 spagna cdc a martinez è un 83 di sto cazzo ci ritroverà martinez il prezzo massimo quando è 20 in acqua vabbè non mi lamento capodoschi 78 da bene ragazzi per questo super video può finire qua penso ci abbiamo trovato un po di roba posso posso ritenermi soddisfatto dai pacchetti euro proprio maxi non me lo sarei mai aspettato e niente ci vediamo nel prossimo video bella ciao Grazie a tutti.